Oggi tutti quanti a dire, ah la Marvel, sì, sono un fan, sono un grande conoscitore, certo, certo. Ma poi chi l'ha visto, eh? Il Doctor Strange del 1978, no? Benvenuti su WatchMogitalia per una top che si spiega da sola sul perché nessuno ha visto il Doctor Strange del 1978. Dieci film pre-Marvel Cinematic Universe, ma anche pre-Marvel di quello che c'era prima della Marvel, pre-Marvel Cinematic Universe, che mi sento di poter dire 99% della gente manco ha mai sentito in tutta quanta la sua vita, e ottime ragioni ci sono. Low budget, high budget ma fanno comunque schifo, c'è di tutto quanto, preparatevi al delirio. Ma prima di incominciare, mi raccomando gente, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime top 10 a tema cinema e quant'altro. Fate un salto sul mio profilo Instagram se volete, che trovate qua sotto perché ci si diverte. Uh, come i matti! E alla numero 10 incominciamo con Howard il papero. Iniziamo dalle cose facili, è uno dei pochi in lista che ovviamente chi segue la Marvel, anche degli albori, conosce, magari ha visto, boh. Poi però si parla tanto di questo personaggio devastato dalla critica, ma finisce che in tanti non hanno mai avuto il coraggio di andare a vedere le motivazioni. L'origine del male, un film con un papero di carta pesta, pervertito, che tocca culi, mena innocenti, ci prova ben oltre il limite dell'accettabile con tutte. Ci riesce, quando ci finisce a letto, ci sono scene così. Il tutto coronato, con uno dei dialoghi più ispirati della storia del cinema. Tutto, qui lo dico, qui di certo non lo nego, capolavoro immortale. Alla numero 9, The Punisher dell'89. Sì, il Punisher di Dolph Lundgren, nella versione non ti spiezzo in due, ma ti smitraglio in due. Non significa nemmeno nulla, non faceva nemmeno ridere, in effetti non ho la minima idea del perché io abbia fatto questa battuta. Oh raga, non mi vengono sempre tutte col buco, eh? Che cavolo, dicevamo, è Frank Castle, che di Frank Castle ha il nome, l'attitudine per i vestiti neri, il teschio un c'è, le motivazioni non ci sono. I soldi, ma anche lo recita come ti aspetteresti recitasse Dolph Lundgren ogni giorno della settimana. Purtroppo non è nemmeno talmente brutto da renderlo stupendo, è solo brutto. E alla numero 8, per i bimbi, c'è Spider-Man No Way Home. Per le persone normali, gli Spider-Man di Raimi. Per gli eroi, su Piedaman. Per le leggende, però, che trascendono spazio e tempo e sanno davvero cosa sia il cinema. L'unico Spider-Man è quello di Ammon del 77, in cui Peter Parker è già stato morso dal ragno inizio storie e si esibisce da subito in camminate sui muri in cui è sovrapposto a mano alla pellicola del fondale. Non ci sono mai le ombre perché non sapevano come metterle. Le ragnatele non le spara perché costavano troppo. Gli interni sono quelli di casa mia o tua. Hai capelli da Beatles, fa delle belle caprioline, corre, corricchia, fa jogging. E fu il prequel pilota per la serie del 78. Peccato che fu anche una merda. E alla numero 7, Man Ting. Da non confondere con Swamp Ting, perché sapete, sono identici. Semplicemente il Man Ting è lo Swamp Ting, solo che è della Marvel. Mentre Swamp Ting è della DC, fa sempre Ting di cognome, ma è Man il nome al posto che è Swamp. La storia è identica e sta Ting finisce a fondersi con sta Swamp, solo che è più Man che Swamp, anche nel caso della Swamp Ting. Non soltanto della Man Ting, soltanto che la Swamp Ting fugge e si mette a capire come ritornare Man. Mentre la Man si affeziona alla sua Swamp e la morale è la favola, insomma, che è un film su un tizio palude che vuole che tutti vadano fuori dai coglioni dalla sua palude, avete capito? Povero uomo, o povera palude, o povera... qualunque cosa sia. E alla numero 6, Nick Fury, Agents of S.H.I.L.D. del 98. Eh sì, avete letto, ma soprattutto ho visto bene. Il primo Nick Fury della storia, prima di ritirarsi a vita privata, faceva il bagnino. Devi da selofone nazionale. Fu la prima comparsa di Fury in tv, costa bendina per l'occhio comprata da Fantasylandia a 99 centesimi scontata per il carnevale. Lyder è tornata e quindi deve farlo anche lui, ma non ha voglia. E i suoi lo vanno a cercare, gliela fanno venire la voglia, lo trovano e gli fanno picchiare tutti. Lui corre con il suo solito fare da bistecconi, come fosse ancora sulle spiagge Los Angelini con Pamela Anderson al fianco. Firmò un contratto per proseguire con altri due film, ma il film fece così pena a chiunque. Pare che la gente uscì di sala, sì, ma la proiezione è quella pre-release di film, per vedere come andava col pubblico. E purtroppo, per questi motivi, ci siamo beccati Samuel L. Jackson. Alla numero 5, Generazione X, col titolo brillantone che voleva far corrispondere alla generazione incompresa storica. I giovani incompresi coi superpoteri, le cose carine finiscono qui al titolo, perché per quanto adori gli anni 90, questa è la cosa più gravemente anni 90, che ci sia i colori da LSD. La cinepresa è inclinata perché faceva fico, l'ho visto su Batman di Barton e quindi ho rifatto. È tutto nero, non ci si vede una mazza, loro mezzi rocchetto, non si sa perché, non si sa manco che superpoteri abbiano. La scuola di Xavier è guidata, sì, ma da Emma Frost perché sì. Il fratello perduto sotto Matt di Sting è uno scienziato pazzo che vuol conquistare il mondo. Ma tutto quello che conquista è una posizione di vantaggio, sui coglioni del pubblico dopo 20 minuti. E alla numero 4, Captain America, del 90. La gente si chiede perché anni fa la DC dominava al posto della Marvel e la risposta la trovate in questi film. Sì, il Cap apparve molto prima del nostro Evans e sì, era Matt Salinger, noto per questo film, quindi molto noto, e il suo mandibolone presidenziale molto americano, indubbiamente capitaneggiante, vestito con il vestito che ti aspetteresti da un film col budget di una scolaresca al primo progetto amatoriale. Pur essendo la Marvel, non chiedetemi come questo sia possibile, ma tant'è. Le trame ci sono tutte, dico le trame perché in effetti succede ogni cosa in questo film. Veramente pensate a una cosa succede. Teschio rosso c'è, col rosso però che gli si sgratta via, gli si scolla dalla faccia, perché evidentemente è collato con la Vinavi, non lo so. E alla numero 3, Doctor Strange, eccoci qui, ma non c'è nulla di strange. Se questo film falli su tutti i fronti, non riuscendo a far partire la serie con la CBS, che voleva crearci sopra, assieme alla Marvel, appunto, un qualcosa di successo, una volta era abitudine a fare dei film pilota per le serie. Strange è questo barman anni 70, che però è anche uno psichiatra, le cui origini semplicemente sono che c'ha i poteri, non c'è tempo per mettersi a raccontare tutte quelle altre minchiate, la storia che cavolo, devi annoiare alla svelta il pubblico, con un po' di scenografie perdonabili, però, devo dire, per un film, no, di fantascienza anni 50, o peccato che siamo praticamente negli anni 80, ma gli effetti psichedelici quelli ci sono comunque. Guardate che inventiva. Praticamente identica alla scena dell'uno in cui si fa il viaggione, no? E alla numero 2, Captain America, è Captain America 2, perché se una barca la affondi per Diana, devi farla colare a picco per bene. Non basta un buchettino sullo scafo, disse la Marvel, sempre in combutta con la rete CBS per dare luogo a uno dei suicidi cinematografici più epici di sempre. Dopo Spider-Man, dopo Doctor Strange, dice, senti, c'è il Cap da massacrare, facciamo soffrire anche lui. Il Cap è il figlio di Stotizio che lo salva dopo un incidente con la sua formula segreta per rendere superforti, ok? E lotta contro il male in Captain Collant sfrecciando sulla sua temibile Captain Bike e tirando l'ai di scherzoni ai malvagi. Fagliela vedere, Cap! Ha! Bricco il cielo! E alla numero 1, i Fantastici 4. Una cosa era certa, 4 era un 4, quello sì. Un po' tutto il resto, ed è una porcheria questa del 94, l'anno in cui capoccia della Marvel, sempre con la CBS, decidono che è giunto il momento di sfruttare i diritti acquistati nell'80, però per i Fantastici 4, ma solo per una ragione. Stanno per scadere, e questo film fu girato in pratica col solo scopo di mantenerli legalmente, senza spenderci però una cippa. Cioè, pensate veramente a delle persone che si svegliano la mattina... Oh, che cazzo, ma gli scadono i diritti per i Fantastici 4? Facciamoci un film, su, veloci, sto poveriggio! Dai, dai, ma com'è io devo portare a spassi il cane? Ma chi se ne frega? È una cosa importante, eh! Tuttavia non fu mai presentato al pubblico perché Avia Rad, rappresentante Marvel dell'epoca, lo contro-riacquistò dalla produzione facendone pare distruggere tutte le copie, tipo l'Atari, conetti l'extraterrestre e il videogioco, perché aveva paura che il film potesse distruggere agli occhi del pubblico la reputazione di un franchise potenzialmente così grande. E ci aveva visto giusto, peccato comunque che poi fu fatti il film nel 2005, quindi... Grazie! Grazie! Grazie a tutti